Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Chiara di Buonness with a Chiara Air, scusatemi se sono, diciamo, stoccata, ma appena finito l'allenamento mi sono fatta una doccia e mi è venuto in mente di registrare un video che potrebbe esservi molto utile, perché ormai siamo ai primi di settembre e un po' tutti siamo tornati dalle fere, dalle vacanze e stiamo riprendendo le nostre vecchie abitudini e molti di voi magari in queste settimane andranno a fare un giro nelle palestre per vedere se c'è un corso da poter seguire, un corso che vi possa piacere per appunto farlo e rimettervi in forma e quindi ho pensato di parlarvi, di accennarvi delle novità fitness 2015-2016 che potrete trovare in alcune palestre della vostra città. Le ho divise in quattro fasce di attività, l'attività divertenti, le attività divertenti che richiedono un po' di preparazione, le attività impegnative e le attività rilassanti ma efficaci. Ho preso degli appunti perché sono tantissime novità, allora parto con le attività divertenti. La prima fra tutti non è una novità ma diciamo che è una riconferma da qualche altro è lo Zumba. Io lo Zumba lo definisco come una sorta di gran ballo di gruppo che è stato portato in sala fitness, ha aumentato il livello di intensità per avere un lavoro cardiovascolare. A seconda poi di che rano di lo Zumba prendete potete avere, potete trovare qualche esercizio di tonificazione all'interno della corografia. A livello lo Zumba che sicuramente è un'attività che vi permette di socializzare, di divertirvi e di sudare, sudare tanto perché alla fine comunque ci si muove per un 50-60 minuti. La seconda attività è il clorè con effetto burlesque. È un'attività che riprende la musica e l'atmosfera del burlesque, però vengono inseriti degli esercizi di tonificazione, di pilates, di gig and bang, di functional training e di bodybuilding. Il tutto ruota attorno ad una sedia, ad un bassone e a un borsalino che il cappellino. È un lavoro che promette di essere un lavoro cardiovascolare che serve per rafforzare appunto l'apparato lucomotore, quindi i muscoli e le articolazioni, di dare equilibrio, forza, coordinazione e resistenza. Poi c'è il country fitness nella scia dello zumba diciamo, nel senso che si porta il ballo in sala fitness, quindi in questo caso le musiche e le coreografie del country con un ritmo e con un'intensità che possono diventare un ottimo lavoro cardiovascolare. Ovviamente l'obiettivo è sempre divertirsi, sudare e socializzare. La quarta attività è quella che si può svolgere in acqua, è una novità del Crazy Fit che è svolto con un piccolo altrezzo che è il B-Flex. Non è altro che a un manubrio con un'impugnatura, ma ai lati, nel momento in cui la mano entra in acqua, diciamo che accumula acqua ai lati, quindi nel momento in cui metto la mano in acqua, questo manubrio si riempie di acqua e la butto fuori. Quindi è un lavoro che nel momento in cui, diciamo che è un'acqua gym con un maggior coinvolgimento delle braccia, con un lavoro di carico, presa di acqua e di scarico nel momento in cui la mano viene fuori e l'acqua viene buttata fuori ai lati. Momentaneamente lo si può svolgere solo in Germania, però secondo me qualche piscina magari si attrazzerà con questo nuovo piccolo attrazzino. Passiamo alle attività rilassanti ma efficaci. Il primo è lo Steer Fit che è un'attività molto soft, è un'attività di gruppo a corpo libero che promette dei risultati ma nel medio e lungo tempo, quindi non bisogna avere fretta, è indicata più per le persone magari di una fascia di età un pochino più grande, quindi magari dai 40 anni in su, per le mamme, papà o per chi ha dei problemi specifici e quindi ha necessità di rimettersi in moto con un'attività più blanda ma specifica che gli consente di rafforzare l'apparato locomotore, di riaccustare dell'equilibrio, della forza e dell'elasticità. Poi c'è l'anti-gradivity yoga che io l'avevo già visto due anni fa alla fiera del fitness a Rimini. È un allenamento in sospensione dove vengono eseguite delle figure tratto dallo yoga con movimenti molto armonici, molto scenografici, richiedono molta flessibilità, molto equilibrio, molta coordinazione e sicuramente consente di allungare la colonna vertebrale. Il tè, la terza attività è In Trinity che è nato dal fondatore dello spinning, attività ormai che è arrivata in Italia negli anni 90 e è praticamente una tavola inclinata su cui vengono svolte esercizi tratti dallo yoga, dal pilates ma anche dallo stretching. È un allenamento praticamente isotonico, però non è indicato per chi soffre di problemi ad articolazioni o che è in fase di ripresa posto infortunio, posto intervento chirurgico. Passando alle attività divertenti che richiedono un minimo di preparazione, abbiamo la fluid ball. La fluid ball è una sfera che viene riempita per metà da acqua, salinizzata, colorata e si tiene in mano durante l'esecuzione di tutti gli esercizi. Quindi diciamo che è un'attività cardiovascolare, di forte tonificazione, svolta tutto con in mano questa fluid ball, in modo da andare a rafforzare la parte alta del corpo. Poi abbiamo il fly ball. Il fly ball è una tavola a forma diciamo di semiluna che viene utilizzata sia nella parte concava che nella parte convessa e il tutto viene eseguito su questa tavola. Si richiede tantissimo equilibrio, tantissima coordinazione, tantissima conoscenza del proprio corpo proprio per mantenere l'equilibrio, ma sicuramente permette di migliorare appunto forza, resistenza e tonicità dei muscoli. Poi passiamo alle attività diciamo impegnative. Ah no, abbiamo come ultima cosa il Polix Gym, che è un'attività divertente che richiede comunque un buon gradito di impegno e di preparazione, perché il tutto si svolge attorno a un palo, perché è la pole dance ed è un'attività che veramente vi permette di tonificare totalmente i vostri muscoli. È un esercizio completo a 360 gradi, molto divertente, che vi permette anche di socializzare ed è un'attività che ormai è conosciuta da diversi anni, che in diverse città d'Italia già c'è nelle palestre. Passando alle attività impegnative, la prima di tutto, fra le prime che vi voglio segnalare è per la svolta col TRX, che non sono altro che una cinghia collegata alla parete tramite dei cavi. Attraverso questa cinghia vengono svolti tutta una serie di esercizi che coinvolgono sia la parte alta che la parte centrale del corpo, quindi l'addominale, che la parte bassa. Richiede veramente tantissima forza, tantissimo impegno e tantissima perseveranza, perché gli esercizi sembrano facili, visti dal di fuori, ma una volta in cui li andate a eseguire voi, vi assicuro che sono pesantissimi, perché il tutto si svolge in sospensione su questa banda, diciamo, su questa cinghia e il peso che dovete sopportare è il vostro peso. Poi abbiamo lo street work, è un'attività che si svolge outdoor e si svolge prevalentemente con tutto ciò che si trova in strada e nei giardini, quindi è un'attività tra virgolette un po' improvvisata, dove gli ostacoli possono diventare dei muretti, delle buche, tutto viene svolto sfruttando la natura ed è un'attività svolta prevalentemente in gruppo. Poi c'è il body compact, è un allenamento molto energico, perché è un mix di arti marziali, karate, kung fu, box, tacking wood, capoeira, a ritmo però di musica, quindi si richiede grande fisicità, grande energia, grande forza, grande equilibrio, però è estremamente efficace. Poi c'è il boot camp, anche questo è svolto prevalentemente all'esterno, pre-respirazione dall'allenamento dei marines, quindi ci sono corse, saltelli, piegamenti, flessioni, addominali, come rimettersi in forma nel più breve tempo possibile, però con un ritmo bello serrato che è quello dei marines. Poi c'è il modern race, che è una corsa di gruppo ad ostacoli che è molto molto impegnativa, perché bisogna stare dietro a un determinato tempo, a una determinata esecuzione e seguendo un gruppo. Diciamo che queste sono le novità in campo fitness per l'anno 2015-2016, l'anno accademico, chiamiamolo, le novità che sono state poi introdotte all'ultima fiera del fitness che si è tenuta a remine appunto la scorsa primavera, alcune sono delle novità, altre no, però sono più o meno note, diciamo, al popolo, tra virgolette. Io spero di avervi dato un po' di informazioni, ditemi se vi iscriverete in palestra, quale corso andrete a svolgere, se nella vostra città trovate uno di questi corsi o se lo state già svolgendo come li trovate. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo nei prossimi video in tema fitness. Alla prossima, ciao!